dietro il forte rimbalzo dell'export dei distretti industriali del mezzogiorno nei primi nove mesi del 2022 non c'è solo l'agroalimentare ma molto altro che spiega quegli 844 milioni di euro in più rispetto ai primi nove mesi dell'anno precedente come monitorato dal gruppo intesa san paolo le migliori performance del settore annoverano l'ortofrutta del barese di catania vini e liquori della sicilia il lattiero caseario sardo e la mozzarella di bufala campana dop che segna una crescita del 28 per cento l'export meridionale mostra però segnali di vitalità e di rinnovata competitività anche in altri settori a cominciare dalla moda che nello stesso lasso di tempo ha conosciuto un balzo di oltre il 25 per cento